Ciao ragazzi, non potevo non darvi quest'ultimo minuto con un 90 spettacolare ragazzi So che ci sono molti amanti del 90, ma io non sparo a cazzo il 90 così tanto per Io do il 90 quando ci sono le condizioni Intanto nei miei aggiornamenti che avete visto prima, nel penultimo video Come vedete io ce l'ho il 90, sia a Venezia che ce l'ho anche a Bari Però adesso c'è una ruota unica che è nella stessa sede istrazionale di Milano Ma è la ruota di Torino, io ho trovato un 90 con due abbinamenti Quindi parliamo sempre di ruota unica Quando giocate con Mimmo Nazionale ricordatevi che il 99% delle mie previsioni sono su ruota unica Quindi si può coprire tranquillamente la Nazionale Ok? Io vi do subito l'ultimo minuto perché è doveroso farlo L'avrei potuto tenere per me, ma mettiamo il caso che esce a colpo stasera Mi girerebbero i maroni che non ve l'ho dato Perché me lo sarei giocato io magari con 3 euro questa previsione Però è giusto che ce l'abbiate anche voi perché Mi sono venuti due abbinamenti con il 90 a Torino Due abbinamenti che secondo me sono veramente uno spettacolo Allora, vi faccio vedere la previsione Anzi no, ve la dico a voce, non la faccio vedere Quindi niente screenshot, piuttosto riguardate il video Torino abbiamo il 90 come ambata secca, semplice e in terza e quarta posizione Ripeto, Torino 90 come ambata semplice e in terza e quarta posizione terminata Solo perché vuole giocare a lambata e gli amanti di lambate Gli ambi da fare a Torino sono 90 e 68, 6-8 Ripeto, 90 e 68, 6-8 Ambo e ambetto Secondo ambo è 90, 76, 7-6 Ripeto, 90, 76, 7-6 Ambo e ambetto Naturalmente più terzina per ambo eterno Ricordatevi sempre la cosa che dice Gianchi, il mio amico Gianchi Occhie laterali Quindi occhio anche magari al 68, 76 Perché voi sapete che una terzina forma tre ambi Spesso e volentieri escono proprio i due abbinamenti insieme come ambosecco Noi tentiamo di vincere l'ambosecco Ma perché no? Si potrebbe vincere anche il terno Vinto qualche mese fa Quindi ragazzi, ripeto, Torino il 90 con il 68 e 76 Mi raccomando, questo è un bellissimo ultimo minuto E oggi ancora non ho acceso il cellulare Per scaricare la miriade di foto che mi avete mandato Del lambetto secco a Bari 81-89 Che avevamo 81-90 Ed è l'ambata che ho spinto anche 81 a Bari Quindi lo accenderò, penso, spero di riuscire nel pomeriggio Ma non sono sicuro Comunque voi mandate gli scontrini vincenti Non vi preoccupate che io appena accendo poi scarico tutto Ok? Ragazzi, stamattina ho messo la camicia bianca per voi Mi raccomando, in bocca al lupo per stasera Crepi il lupo per stasera E ciao!